E' sempre Brigio Tukabeir che deve essere convinto pienamente cosa che avviene, ci siamo, si apre le gabbie, cavalli dell'ultima corsa del pomeriggio, 2003 in All Weather, parte bene Nisida, forte anche di un peso che la vantaggia, parte bene Zona Cesarini, parte bene Simpatico, questa è la prima linea, la seconda linea è completata da Blankmenter all'esterno di Run Generation, poi Sayanna, The Dark Side, Casale Bottone, Brigio Tukabeir, poi Foxtrot, Tango ed in coda Fresia, si procede in questo ordine con Nisida che l'ha messa sul ritmo, almeno la curva di sinistra l'ha affrontata in scioltezza e con un bel ritmo imbastito in avanti, tutto questo viene a favore di Zona Cesarini che si è sistemato proprio in seconda posizione, in terza c'è il greco Simpatico, in quarta posizione c'è The Dark Side, a precedere Blankmenter, Run Generation, questa è la prima parte del gruppo che si è spezzato in due parti, la seconda parte del gruppo è capeggiata poi dagli inseguitori, in particolare Casale Bottone, Brigio Tukabeir, Foxtrot, Tango, Fresia, Sayanna, ma intanto torniamo in cima alla competizione perché siamo già velocissimamente all'altezza del vecchio rudere, Nisida che non lesina l'andatura, è sempre in vantaggio deciso con Zona Cesarini che si è franco bollato lì sulla sua posteriore, poi Blankmenter che galoppa in terza corsia, in quarta posizione all'interno c'è The Dark Side, Run Generation tra i cavalli con Brigio Tukabeir alle spalle di questi, c'è anche Simpatico nella prima parte del gruppo, ancora Casale Bottone, via via tutti gli altri che sono abbastanza discosti in questa fase, Nisida sempre con il suo ritmo abbastanza forsennato perché sicuramente sta facendo selezione, poi Zona Cesarini che si propone sui fianchi, comunque sia già sostenuto, in terza c'è Simpatico, poi Run Generation, The Dark Side che è rimasto un pochino fermo lì in questo parziale, allora siamo in retta d'arrivo, velocissimamente Nisida non si sta risparmiando in avanti, si getta all'inseguimento Zona Cesarini, anche Run Generation cerca di ricucire il gap, di dentro ci va adesso The Dark Side che sta prendendo confidenza con il ritmo della sua azione, Zona Cesarini, supera in scioltezza Nisida, e adesso è passato definitivamente in vantaggio Run Generation, The Dark Side che provano la rincorsa di dentro, Zona Cesarini è davanti, The Dark Side che ci prova, Zona Cesarini che si sta mantenendo in evidenza con l'ultimo a fondo da parte di The Dark Side che però è vano, che il traguardo arriva prima del suo finale e al terzo posto dovrebbe essere Run Generation con una quarta Nisida e poi via via tutti gli altri, vince il vecchio, il sempiterno, Zona Cesarini, ventiduesima vittoria in carriera. Per il figlio di Maxios, in sella Alessio Satta, per il train di Paolo Maria Catano, i colori sono quelli della scuola della Super Kimax, rivediamo la fase finale della corsa, Zona Cesarini ha attaccato, ha aggredito, è passato, poi guardate come fa con le orecchie, si ferma un pochino, poi sente arrivare The Dark Side e si difende, vince però Zona Cesarini su The Dark Side, 11-10 e poi per il terzo posto vediamo un po', Run Generation che relega al quarto Nisida, quindi questi quattro se la giocavano, questi quattro sono arrivati nelle prime quattro posizioni a vincere, però è stato Zona Cesarini che chiude il pomeriggio a doppia mandata, quota conclusiva intorno al 5, da Capannella è veramente tutto, Gabriele Candi vi ringrazia, vi dà l'appuntamento alla prossima giornata di corsa in questo ipodromo, mercoledì con le corse al trotto, noi del Galoppo ci vediamo venerdì con orario da consultare, con attenzione da Capannella è tutto.